Hola, io sono Marcus Cronin, insieme a me c'è Fisty Pussy Mines Fisty Mines Buongiorno, Fisty Mines, buongiorno Per una nuova puntata di Star 2 Valley, ragazzi, come promesso c'è il ballo della sonata al chiaro di Luna Di Luna E siamo in spiaggia Però non c'è Non c'è nessuno Eccoli Io faccio luce perché ho il cappello magico Bella Ma sembra un uomo Non è un uomo? No, è una donna Salve Hey, la Buonasera No, non posso credere che l'estate sia finita Oh, no Anche perché dura soltanto 8 giorni 28 giorni qui Vedrei che cosa consiste Ah, ma mettono le cose Uh, Abigail Sì, 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 Abigail No, non ti posso dare i regali Abigail No No Abigail No No Eh, tipo mettono le cose su delle Che belle Molto romantico Delle vaschette Molto romantico Sì Oh, ma che coscia c'è Una barchetta Una barchetta? Guarda, chi è questo? È Jodie Jodie Foster Qui c'è il tizio, il pirata Willy No, è il pescatore E qui abbiamo Lewis Il sindaco Che però Giustamente dovevo leggere Non abbiamo letto What do you think? Should I launch the boat now? Vai lanciare la barca Yes Vai barca No, tipo fa così Va avanti Finchè la barca va Lascialo andare Eccola Olè Mollate gli ormeggi che non ci sono Ciao barca Ciao È la fine dell'estate Che tristezza No, è bellissima la fine dell'estate Vuol dire che non fa più caldo o merda Ma comunque è finito qua Cioè questo è l'evento ragazzi Davvero seriamente Tu dici? Non penso Si è rotto il gioco ragazzi Oh mio Dio Ah Jelly Medusa Giusto Sta ballando Quanto è gay questo momento Non è gay Voi non ci vedete ma noi stiamo ondeggiando come le meduse E tu stai urtando Ti sto urtando il seno Che è molto prominente ragazzi È bellissimo questo seno qua Dai Dai è molto Ma guarda che bellissima danza Se soltanto Abigail fosse qui A farci un boccacciuccio I bambini I boccacciuccio Un boccacciuccio È una cosa romantica no? Sì Guardali I bambini Quelle gelatine che un dè Che schifo Che caschi in mare muori praticamente Guarda Abigail No Abigail C'è una vettatura un po' strana comunque Uh qual è Questa che è? È un fiore Oddio raga Sembra il fiore di Super Mario Bros 3 Solo che è rosso qui sulla cappella Dun 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 Questa è la festiva da sera Voglio parlarci Non posso Non puoi muoversi Devi ammirare questo Devo La telecamera si muove da sola Quindi io berrò Sorcero del mio caffè E l'evento finisce Signori salutiamo l'estate E ci prepariamo All'autunno The winter is coming The glue of summer has faded Now And the moonlight Jellies Carry on Together To work Ho letto together Qui ho fatto un chiasmo tra Together The great unknown Ciao gelatina Siamo a casa È mezzanotte Guardate che ho fatto Per la vostra Belletà Fantasticissimo Maionese E andiamo a dormire Vi ricordo che nella precedente puntata L'avevo questo qui No questo lo tengo Per regalarlo a Abigail Mettiamo il tomato E la maionese Ok E andiamo a dormire Che avevamo fatto La precedente puntata Ah si Avevamo dato il piccone Al tizio Te lo ricordi? Sì Ciao maicio Miau Andiamo a dormire ragazzi Vediamo quanti Abbiamo fatto Perché volevamo Farlo più Ecco Più importante Oh Pomodoro Ma sai pomodoro così tanto Ah no Tre maionesi Ragazzi Tre maio E anche un po' La maio ci conviene La maio La maio Signori È fall Autunno Quanto può essere stupido l'inglese Sì è autunno Sì Quanto può essere stupido No niente Autunno Che cosa accade? Le bannocchie hanno multistagione Guardate è tutto rotto Togliamo qua Togliamo qui Anche l'erba Che cos'è questo? Ah è crementato Giusto Vabbè togliamo questo Andiamo dalle gallozze Ciao Ehi la cocche Come state? Perché non hanno mangiato? Eh sono a dieta Sono ciccione Sì Allora qui io ho fatto Questa cesta Dove mettere le uova In attesa Di farle diventare maionese Perché ci danno un sacco di soldi in più Quindi dovremmo Questo sta ancora facendo Faremo un'altra maionese Faremo un'altra maionese Sicuramente Qui abbiamo i corn Che so quelle che tieni tu E direi ragazzotti Di andare a vedere Cosa vende Pierre L'ho capito adesso Cosa? Niente Cosa è capito adesso? Corn È una merda Andiamo a vedere che cosa vende C'è stato un momento di gelo Che cosa hai capito? Andiamo a vedere cosa vende il buon Pierre Ma che bei colori Sì è davvero davvero piacevole ragazzi Guarda Guarda Volevi E invece Qua è rimasto verde Sì Vabbè ci stanno dei sempreverde Ci stanno Ci stanno Qui sono spuntati dei funghetti No c'erano Andiamo a vedere qui Allora 28 giorni Poi abbiamo un evento Lo Stardew Valley Fair E lo Spirit Perché qui c'è questo Help Wanted Hi I need a Jack Cora Ce l'abbiamo Però c'è 75 Ci da Guarda Guarda la ricompensa 75 Guilson Delivery E fai felice un ragazzo Chi è Gas? Fai No ho capito Ho letto Guys No fai Gas Happy Dai accettiamo volentieri Ma Gas Gas Ma che cazzo ne so chi è Gas? Andiamo a vedere Andiamo a vedere Ma andiamo subitissimo a vedere Gas 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 Ma chi è? Ma chi è questo? Ma chi è questo ragazzi? M Andiamo a vedere un po' Narni Antonio Emily Major Blacksmith Yeah Star Magari è il Fabbro? Fabbro No il Fabbro Goose Eh si è il Fabbro Tu dici? Io dico Io affermo ciò con vigore Siamo dal Fabbro Magari è pronto anche il nostro piccone È vero Spererei tanto nel pick house Però Uh le zucche Zucche Uh è vero Possiamo piantare i melon No aspetta I melon sono Decisamente no Sono i melo Sono i melo Cioè sarebbero l'anguria Sì Mentre le zucche sono le pumpkins No watermelon Watermelon Eh sì sì E loro chiamano watermelon melon 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 Sì sì Uh uh ma è lui Ah chi è? Gus fermate Ma che è? Tiè Mamma di quanto sei brutto Gus Sì Olè Thank you Manfro Bella per te Sì Ti ho tolto dai problemi Sì adesso possiamo Possiamo Ma vuoi trombare No Guarda non ti Guarda che nasone che c'ha Che bello Che era quel cosetto qui? Ah ti dice la felice L'attrazione Eh zero felice Ok andiamo a comprare Andiamo a comprare Buongiorno Pier Welcome Oh pumpkin seed Yeah Allora vediamo un po' 13 giorni per maturare Minca Corn Corn Ah i corn Egg Ma tu pensa Ah no i corn sono validi Sia in summer che in fall Eh giusto Come nella realtà Io non lo so proprio Gli eggplant Che cazzo sono scusami Aspetta eggplant è melanzana Oh sì Cinque giorni per maturare E continuo a darci roba Buono Oppure il boc Shoe seed Ma che è Cos'è questo? Gli oiam Che cos'è? Dieci giorni per maturare Icran Sunflower Perché Sunflower? Plant in fall Take some day Do produce Large sunflower Il sunflower è il girasole Sì Bello Ma i ciliezi non sono sugli alberi I cosi? Le ciliezi No Sì Sì E perché Forse è un cespuglio Di ciliezi Tipo le more Allora io ragazzi prenderei Dieci di queste Dieci Facciamo otto Ok Poi Quanti di meno C'è 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 I corn No Ce le abbiamo I corn Prendiamo Queste Melanzana Che ci vogliono cinque Quindi ne prendiamo cinque Oddio Facciamo dei cosi Dei quadrati Sì Quindi ne prendiamo otto anche di queste Ok Ok Poi ci rimangono questi soldini qui Che è un boc? Va bene Prendiamo uno A fan bocca mamma Un jar Poi volevo prendere Le ciliezi E infine volevo prendere anche dei fiori Perché voglio fare I lapiari Quello per metterci le cose Sì Sì Quindi io direi di prendere Fare così Sto sprecando tutti i soldi che ci abbiamo L'uva Vino 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 Allora Questa qui dura dieci giorni Sì E continua a produrre E cresce sui trampolini Che cazzo saranno i trampolini? I cosi Vabbè io ne prendo un'altra Sì abbiamo finito i soldi Regà stavo una cacca Guardalo come gira con le sementi Pronto lui Allora intanto andiamo a vedere Se il nostro piccolo ha fatto Ma dubito perché aveva detto A couple of days Andiamo Io bevo il caffè Siamo arrivati Siamo arrivati Sì Molto bene Entriamo dentro Vediamo un po' che ci riesce Buonasera Oh sta ancora lavorando Sei uno stronzo E quindi Io direi Visto che siamo vicini Di passare alla spiaggia Per vedere se ci sono cose da raccogliere Perché vi ricordo che La skill La skill della raccoglitore Ci sblocca nuova abilità Tra l'altro abbiamo scoperto adesso Che al quinto livello Non ti dà crafting Ma ti dà skills Una skill Ragazzi l'inventario doppio È stata la più Il più bell'acquisto del mondo Sì sono d'accordo Davvero 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 tanto Uh gabbiano Gabbiano Muori gabbiano Non morirebbe Corallo 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 Vediamo se qui c'è il tizio Che no Solo un corallino Due 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 Non danno tantissimo Però vabbè Buono E visto che ci stiamo Io direi di fare anche Una pescata Ve lascio una soltanto Pim Vediamo che succede Escerà un'alga Sì secondo me esce un'alga Io ora è un Pesce del mistero Misterioso Niente pesce Niente pesce del mistero Con sorpresa Pesce Che è no Senti Hai potuto pensare pesce Tu però Eccolo Ah gli occhiali Bellissimi Avete solo uno No Guardalo 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 Eccolo Max Questa c'è un pesce Eccolo L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Ma è la pippa È il pesce più stupido del mondo Ma che sta fa Non so neanche Vabbè Cioè L'ho preso Il pesce figro Il pesce figro Cioè Il pesce più Uh Che cos'è No Fermi Si è cucumber Che cazzo è Il si è cucumber Ma No ragazzi Che cacchio è A slip 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 Ah è un Non lo so Un cucumber È un Ma il cucumber È tipo Una Un Una melanzana No Non credo Ragazzi ma che abbiamo preso Vabbè andiamo a vedere quanti sordi c'è Tra l'altro se lo mangi Da meno 35 di energia Muori Ah si Muori Bellissimo Ah guarda che ho trovato Bello cucciolo Oh buonasera Dai il fiore Ciao Abigail Vuoi il mio fiore Oh Vedi che se mangiano i fiori questi Ma siete Uno uno Sì 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 Stiamo lavorando per noi Aspetta vuoi un attimo sulle abilità Sulle abilità quali? Crafting No aspetta Social No Abilità Sì Sì Ti ho dato uno di phishing? O ce l'avevi già? No uno già ce l'avevo Ah però adesso Stiamo pescando abbastanza Quindi prima o poi No è una Receivement Di Di steam Ciao bella bambina Ciao bambina Vuoi? Ah no Non è una bambina Non è una bambina Come cazzo Sta facendo la cacca Ragazzi Ecco infatti Hai visto? Perché ha fatto una cacca Che schifoso Sei una lezza proprio Davvero Un te Schifo Schifo Guarda tutto a pumpkins Ah vabbè che questi sono americani effettivamente Pumpkins Vediamo qua dentro Ah ma ricana ma Ah no Sei 12 e 50 Pensavo fosse mezzanotte Ho detto mamma mau Allora Io vorrei andare qui dentro Per vedere Non c'è Non c'è nessuno Perché loro quando gli pare non lavorano Esatto C'è Vabbè Secondo me questi sono americani Sono romani Che non ci stanno Non lavorano Bigiano il lavoro Però se rompi le cose non te le fanno pagare Già Guarda che bella l'erba Guarda che pelli fiori Però non crescono i cosi Faccio cascare gli alberi ma non crescono Dunque Quello che volevo fare Questi cosi sono i pop porn U è pronto U è pronto che cos'è Hot Peppers U aspetta Noi C'era un tizio che voleva qualcosa No Questo voleva la birra Find the door Questo non si trova Deep in mind Non si trova Cali flower devi aspettare Ma secondo me i pantaloni sono Dentro la casa di qualcuno Sì 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 Dobbiamo scoprirlo Di qualche signorina Eh sì Scusata Abbiamo anche fatto questo Facciamo così E ci mettiamo dentro Oh mio dio Qui c'ho troppa roba ragazzi Ok Vai Dentro Dunque Tech Vediamo la maio E la vendiamo Non questo Dunque Vediamo questo Questo E vediamo anche la maio Il coso Questo Lo schifo Il cucumber Questo E questo Perfetto Ok possiamo piantare Beh figa Allora andiamo subito A zappare Quello che dicevo La mia idea Era di Fare una cosa del genere Tut 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 E mettere Gli otto semini Così Capito? Sì Così io mi metto qui E poi faccio Non le pianto davanti a voi Se no vanno io dal cacchio Giustamente Quindi facciamo così No 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 Va bene Va bene Non fa niente E voilà E pantiamo anche Le pambakins Hoppela Che altro ci abbiamo? I fiori Ah i fiori È vero I fiori È vero Questi sono tutti fiori? No Sanno anche cicce qui Ok Facciamo quello di qua Che dici? Uno spaventapasseri? Basta? No ma come Ne dovremmo fare di più? Non serve qualcosa Ah guarda come è intelligente Non ti fa zappare sotto i tuoi piedi Ah beh giustamente Giustamente Perché no? Oh my gosh Che strano Che brutture Così non si No così Non si può guardare Così si può guardare Brutto Però ho capito Per quello che costano Non li andrò a rompere Mi dispiace Uh Clay Ottimo direi E facciato a questo punto Mettiamo questo qui E questo qui Ragazzotti Questa puntata è finita Questi qui sono i fiorellini Noi ci vediamo Alla prossima puntata Di Studio Valley È autunno Bella raga Alla prossima puntata Alla prossima puntata